Se c'è una cosa che ci ha fatto ben capire la pandemia è che non servono più grandi punti ospedalieri ma serve una sanità il più possibile diffusa sul territorio vicino ai cittadini. Per questo come amministrazione regionale abbiamo deciso di non portare avanti il progetto di ospedale unico a Muraglia tramite project financing perché avremmo impegnato gran parte della spesa sanitaria di questa regione per i prossimi dieci anni su un'unica struttura. Quindi non andando avanti con l'ospedale unico a Pesaro significa che manterremo aperto l'ospedale di Fano rafforzandolo, quello di Urbino rafforzandolo e possibilmente mantenendo anche un'altra serie di punti di primo intervento sui territori soprattutto quelli più lontani dei grandi centri. Ecco per questo mi meraviglia la presa di posizione di ieri del sindaco di Fano che dopo aver avvallato per anni la tesi dell'ospedale unico pur sapendo che avrebbe fortemente danneggiato l'ospedale di Fano oggi invece di dare una mano all'amministrazione regionale che vuole rafforzare l'ospedale di Fano e quindi dar una mano ai cittadini della sua città viene a dire che è sbagliato il fatto di non far più l'ospedale unico perché verrebbe danneggiato Fano. Cioè esattamente il contrario di quello che stiamo facendo. Allora io invito il sindaco di Fano a lavorare insieme alla giunta regionale, insieme agli assessori regionali della sua città per perseguire l'unico obiettivo che è quello di rafforzare la sanità nel nostro territorio, sui territori e particolarmente a Fano che è stata molto bestrattata in questi anni.